L'installazione in fibra ottica è una sorta di scultura dello spazio che si determina con il buio, quindi tende a trasformare la percezione dello spazio in base all'abbassarsi delle condizioni visive di urne. Il pubblico può passarvi internamente, quindi vedere questa modificazione di forme o questa modificazione di condizioni percettiva in maniera diversa rispetto a quando può osservare la forma stando fuori. La fibra ottica è una sorta di pretesto per manipolare il volume dello spazio e metterlo in una forma visiva. La notte diventa complice di questo lavoro trasformando in un foglio scuro quello che è l'intero spazio e praticamente il disegno è come un disegno in negativo. La vera materia di questa scultura è il vuoto che vi è internamente e questo vuoto può essere più importante di quella che è la luce che ne determina i perimetri o i contorni volumetrici. Grazie a tutti.